Una stagione concertistica per la scuola di musica Puccini di Città di Castello si chiama Il Tè delle Cinque ed è stata presentata dall'amministrazione comunale. L'assessorato alle politiche culturali ne ha parlato come uno dei molti eventi ospitati nel centro storico confermando nel ruolo di fulcro della vita culturale della città. Terminato teatro ragazzi dice abbiamo una nuova proposta per il fine settimana di famiglie e giovani e una nuova ragione per frequentare la città. Molte le collaborazioni attivate per il Tè delle Cinque ha ricordato il direttore della scuola di musica comunale Mario Cecchetti. Sono state coinvolte diverse associazioni nella realizzazione di questo cartellone in primo piano. Vorrei mettere l'associazione Amare che da sempre collabora con la scuola comunale di musica e l'associazione si è prestata come sempre a collaborare con noi per poter venire incontro a quelle esigenze che difficilmente un'istituzione come il comune può gestire con agilità e molto opportunamente hanno deciso di collaborare con noi. In più il cartellone del Tè delle Cinque si incrocia con un altro tipo di attività voluta fortemente dall'associazione Onlus e le fatiche di Ercole per altre finalità di cui poi parleranno loro in maniera particolare. Si incrocia con il primo concerto che viene presentato, quello del 6 di aprile, con gli lievi cantanti della scuola comunale di musica e di conseguenza si crea quasi una sorta di cordata proprio per la realizzazione di questo tipo di attività. Il titolo fa riferimento all'orario mentre il giorno prescelto è il venerdì. Due le location, la sede della scuola in via 11 settembre, la sala degli specchi di Palazzo Bufanini. Tra i compagni di viaggio c'è l'associazione Amare che ha dato un grande contributo per la logistica. L'intuizione, la scuola di musica che ha dato le gambe, è stata fatta dal maestro Fabio Battistelli. L'idea ha un doppio aspetto, nel senso dare una continuità artistico musicale e quindi riunire tutte le forze musicali in un unico cartellone anche perché credo che Città di Castello abbia bisogno di una stagione concertistica invernale proprio perché il fermento musicale Città di Castello è notevole. Il secondo dare una vetrina anche ai giovani, giovani musicisti e anche meno giovani come sottoscritto che ormai hanno già fatto una certa attività però dare la possibilità ai giovani di esibirsi in programmi, quindi anche collaudare programmi che poi si porteranno in giro nelle varie occasioni che gli si prospettano. Quindi direi il doppio aspetto che è quello che ci fa ben sperare anche per il proseguo nei prossimi anni.